Un applauso ancora per Baloo, terzo classificato, secondo classificato, Iron numero 66, secondo classificato, un applauso, i complimenti dell'assessore, ecco qua, benissimo, le foto, facciamo le foto, Arriviamo ora al vincitore, al vincitore della categoria Mr. Marshall, la festa del cane 2014, si chiama Brad, è il numero 39, un applauso, vieni Brad! Complimenti al vincitore, eccolo qua, Brad, numero 39, complimenti! Buono, buono, Brad, eccolo, i complimenti dell'assessore! Quanto cazzo è grosso, fa tante chilette, pensavo più di me! Per lui, sacco, le trocchette, la coppa e anche la cravatta di Mr. Marshall! Tranquillo, Brad, è solo un gioco, tranquillo! Che belle svampate del cane, che bene sto venendo! Un applauso per tutti, quattro, per tutti i partecipanti, un applauso grandissimo! Passiamo, passiamo ora alle altre premiazioni, passiamo ora alle altre premiazioni, Mayra! Allora, mentre facciamo un alto applauso ai altri quattro classificati della categoria Mr. Macho, questi quattro bellissimi esemplari! Oh, ma basta! Ora, premiamo altre categorie, sono categorie esperte!